Leggi l'articolo completo nel link in descrizione. Una sorpresa ti aspetta. Significato di IBAN. Per procedere a un pagamento o un bonifico bancario avrai avuto la necessità di utilizzare un lungo codice alfanumerico denominato IBAN. Che cos'è il codice IBAN? Significato e composizione. Il codice IBAN, International Bank Account Number, è una serie di caratteri che identificano il tuo conto corrente a livello internazionale. In Italia è composto da 27 elementi tra lettere e cifre. Si tratta di un elemento indispensabile per poter effettuare transizioni ed operazioni bancarie e, a partire dal gennaio 2008, è l'unico codice che può essere utilizzato per pagamenti ed incassi SEPA, area unica per i pagamenti in euro. Il codice italiano è composto da due lettere, due numeri e una lettera con funzioni di controllo e, infine, un lungo codice numerico che racchiude AB, CAB e numero di conto corrente. Dal codice stesso è possibile estrapolare le informazioni di base relativa al conto corrente a cui è associato. All'interno del IBAN, infatti, è indicato il paese di gestione del denaro, la banca e la filiale di riferimento e il numero di conto. Tutti questi dettagli possono essere facilmente estrapolati dalle prime due lettere del codice e della sequenza B-BAN, Basic Bank Account Number, che racchiude in sé AB, CAB e numero di conto. A cosa serve l'IBAN? Per effettuare trasferimenti di denaro, pagamenti di utenze o servizi, donazioni o iscrizioni a scuole o corsi di formazione sotto forma di bonifico, è necessario comunicare questo codice. L'IBAN permette di effettuare e ricevere anche pagamenti da e per paesi esteri. Il codice deve essere inserito sugli appositi moduli per poter effettuare le varie operazioni. Il formato da utilizzare è differente a seconda della metodologia per scelta. In caso di richiesta elettronica è necessario indicare il codice come un elemento unico senza spazi, mentre nei moduli cartacei prestampati viene generalmente chiesto di suddividerlo in piccoli gruppi di caratteri. Se non conosci il tuo IBAN a memoria puoi trovarlo nelle comunicazioni relative all'estratto o nella videata della tua home banking, qualora tu disponga di questo servizio. In alternativa puoi calcolarlo con dei semplici software online, ma tieni presente che dovrai comunque ricordare una serie di informazioni come il codice BIC, la banca d'appoggio, in questo caso non è necessario conoscere esattamente AB e CAB, ma è sufficiente cercarli sulle tabelle preimpostate e il numero del tuo conto.